Allora, 8 capi, 8 capi uvini, si apre l'asta, 50 euro a capo, 8 capi, 50 euro a capo, e vorrei dire a questi pastorelli, insomma, si vogliessero un po' avanti, 8 capi, 50 euro a capo, ori eh, vorrei mettere un po' avanti, ma funziona! No, fa ogni capo, tu metti 50 euro a capo, offri 55, quello che ti fanno a te, non parlo più insieme, capito, no, ogni capo, no, aspetta, lui ha detto sì, no, 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 52, 53 lo dici, dopo, 52 Mirko, 52 a capo, 8 Agnello e Mirko, 55 appena detto, di Giovanni Battista a capo, 57 Barcelloni, a capo, 8 capi, 59 Mirko, 59 Mirko, e a capo, 8 capi, 59 Mirko, e a capo, 8 capi, 59 Mirko, 62 per evento di Giovanni Battista, a capo, 62 per evento di Giovanni Battista, a capo, 62 per evento di Giovanni Battista, a capo, 62 per 2022, grazie. maniare queste, tutte le queste giovani. Sei sforzato Marcello, ti ha messo un euro, 60 aprile. 65.000, 65.000, 65.000. 67.000 Benedetto di Gran Battista. Mirko 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 Mirko